Acqua è agitata in casa dell'Aquila Calcio, dove la sconfitta casalinga con il Siena sembra aver condannato il Rosso Blu ai play-out. La scossa attesa dalla società, con l'esonero di Perrone e l'arrivo di Modica non è arrivata. E per questo da oggi tutti sono in silenzio stampa, per concentrarsi sulle prossime tre partite, utili per cercare di guadagnare posizioni utili in vista degli spareggi salvezza. Utile anche per non dare spazio a ulteriori polemiche, dopo il rovente post-partita, che ha visto protagonisti un gruppo di tifosi e i calciatori Chireletti e San Domenico. I tifosi avrebbero criticato duramente i calciatori, uscendo dallo stadio con amici e parenti, che secondo quanto appreso avrebbero reagito alla provocazione. Lo scontro verbale sarebbe sfociato in un accenno di rissa, sedato a fatica dagli agenti di polizia e della Digos, di cui si attende il rapporto per verificare responsabilità ed eventuali sanzioni. Il segnale è preoccupante. Fatti del genere, oltre ad essere gravissimi, testimoniano un'attenzione che non aiuta in vista del finale di stagione, che sarà tutto in salita, in linea con il campionato, che tra penalizzazioni, esoneri e risse rischia di finire nel peggiore dei modi.